All'ingresso del mercato di Ballarò, vediamo un po' che c'è, bella premuta. Adesso l'arencina è proprio... Ancora presto. È una bella spremuta mattutina, veloce. È una bella spremuta. È una bella spremuta. No, no, mangia adesso, mangia adesso. Quindi, per dentro ci sta la latte. Ah, è come... Ma, vabbè, ci sta una bombola... Ci sta una bombola con un succiatore e una teglia. Sono lo sfincione. Sfincione. E' un buono sto coso. Che cosa? No. No. Ma voi che cerchete i figli? Buongiorno. La fermizzata non ha parole. La perica... mmm. Mmm. Buongiorno, te l'ese! No! Non è così! No! Buongiorno! Buongiorno! vediamo piccola la frittola di fronte al panino con la frittola comunque è ballarò c'è un ragazzo centrale con la frittola 2 euro guardate che roba andiamo all'assaggio buono è un po' di vitello fra taglie ma è molto buono togli la carta buono 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 buono